Da allora mi sento molto meglio. Ho messo da parte ogni sentimento di rivalità nei suoi confronti. L'unica cosa che mi interessa è misurare i limiti delle mie capacità. E so che posso diventare più forte. Che cazzo sta facendo, Bulwark? Guarda. Questo è un generatore di onde bluza. Sarebbe a dire? Presto anche tu diventerai un super saiyan di quarto livello. Di che diamine stai parlando, scusa? Cosa significa questa storia? Ti vuoi spiegare? Significa esattamente ciò che ho detto. Se lui è riuscito a trasformarsi, non c'è ragione per cui non possa farlo anche tu. Su, vieni a dare un'occhiata. Prima di lasciare il pianeta dell'Itsukuru, ho fatto una copia di tutti i dati del sistema. Hai una faccia terribile. Secondo me, a differenza di Goku, tu non perderesti la ragione. Quindi ritengo che hai buone probabilità di diventare subito un super saiyan di quarto livello se fossi colpito in modo corretto dalle onde bluza. Comunque, con il mio speciale dispositivo potrei evitare gli allenamenti e la trasformazione avverrà senza problemi. Vedrai. Inoltre, grazie al generatore di onde bluza, superare ulteriormente il limite non sarà più un sogno. Intendi il limite del super saiyan di quarto livello? E quando pensi di metterlo a punto, Bulma? Prima che la terra venga distrutta, promesso. È fanta... Continua pure a migliorarti, Karoth. Puoi anche raggiungere lo stadio del super saiyan di quinto livello, se vuoi. Non importa, presto ti raggiungerò, stanne certo. Non vedi l'ora di scendere in campo e di combattere nuovamente, vero? Sappi che sono orgogliosa di essere la moglie del principe dei saiyan. Bitch, what the fuck? What the fuck?